Ho qui con me l'ultimo libro di Angelo Forgione, questa è l'edizione 2022. Ci sono una serie di domande, carissimo Angelo, queste domande meritano una risposta. Perché il Nord ha vinto più di 100 scudetti mentre il Sud non è arrivato neanche in doppia cifra? Come hanno fatto i club settentrionali a prendere e poi a mantenere il pallino del gioco? Perché i club meridionali faticano ad affacciarsi alla Serie A? Cosa ha consentito a Cagliari, Napoli, Roma e Lazio di raccogliere le briciole lasciate dal Nord? Perché Juve, Milan e Inter sono squadre nazionali? E perché sono le più amate, ma anche le più detestate? Perché il Napoli è considerato una sorta di nazionale dal suo popolo? Quando e come nasce la discriminazione territoriale? Sono interrogativi ai quali hai dato una risposta in questo tuo lavoro. Questa è l'edizione 2022. Sì, in realtà è un libro del 2015 che ho aggiornato, l'ultimo libro è questo qui, Napoli svelata. Eccolo qua. Che parla della nostra cultura napoletana. Però chiaramente noi parliamo di calcio. Storia partenopea. Storia partenopea. Questo è più indicato alla trasmissione di stazione. Sì, alla platea calcistica dei tifosi. È un libro che racconta la questione meridionale, perché c'è una questione meridionale anche del calcio. Innegabile, assolutamente. E come si è dipanata poi questa questione meridionale del calcio, perché pochi sanno poi alla fine che la federazione italiana gioco calcio, tuttora esistente, insomma, nasce a Torino. E quindi è una federazione che vuole mettere in competizione le squadre del triangolo industriale. Fa giocare le squadre di Torino, di Milano, di Genova, poi allarga quelle dell'Emilia Romagna. Non si sforza più di tanto di allargare il gioco alle squadre del sud, ritenute poco competitive. È vero che nel mezzogiorno le condizioni economiche erano evidentemente, ma come oggi del resto, inferiori a quelle del nord, però insomma il calcio era utilizzato come una vetrina di quella che era l'industria. Tant'è che poi le grandi squadre, la Juventus, diventa la Juventus con Agnelli, che usa quella squadra come dopolavoro aziendale. Cioè i calciatori della Juventus negli anni 20 non erano altro che gli operai della Fiat che uscivano dalla fabbrica, andavano ad allenarsi e poi giocavano a calcio. Sì, è così. Perché in quell'anno, nel 1926, la carta di Via Reggio, tramite il coni fascista, vuole che anche il sud partecipi al calcio italiano. Quindi tutti questi scudetti che dal 1898 vengono assegnati alle squadre del nord, non c'era una competizione. Quindi fino al 1926 e quindi poi al 1929... È la Cicero Protomo Suo. Assolutamente, insomma, vengono conteggiati. Ma quel divario fondamentalmente è rimasto, anche se si è accorciato, si è restretto, ma oggi, come si leggeva prima nella quarta di copertina, veramente le squadre del sud faticano ad arrivare in Serie A, per una percentuale del 20% rispetto a quelle del centro-nord, anzi soprattutto del nord. E faticano addirittura a restare in Serie A, perché ci arrivano e scendono, ci arrivano e scendono. L'unica squadra che regge nel sud è davvero il Napoli, che poi è l'unica che vince qualcosa negli albitori. E questo non c'è dubbio.